Si è tenuto presso la prefettura di Lecce nella sala tricolore un incontro tecnico presieduto proprio dal profetto Luca Rotondi che ha visto la partecipazione di tutte le cariche deputate a garantire ed organizzare la rete di ordine e sicurezza in vista di due importanti eventi annuali per il Salento, la notte della Taranta del 26 agosto a Melpignano e la festa di Santoronzo. Presente al fianco del profetto il neocuistore di Lecce Massimo Modeo. Quanto non c'è nella Taranta ci troviamo di fronte a un meccanismo che già negli anni scorsi è stato ampiamente collaudato. Naturalmente tutti i sistemi organizzativi sono migliorabili. Il comitato ieri è servito proprio per mettere a punto, per verificare e eventualmente implementare le misure di sicurezza adottate sia da parte delle forze dell'ordine che delle polizie municipali, sia da parte del meccanismo sanitario attraverso l'ASD che ha predisposto a un meccanismo che considererei poderoso come postazioni di sicurezza a tutela dei cittadini e anche da parte dei vigili del fuoco. Si è addirittura ipotizzato anche l'utilizzo di droni per una migliore verifica della situazione di sicurezza nelle varie fasi della manifestazione. Signor Prefetto, invece, in merito alla festa di Santoronzo, quali sono state decisioni prese? La festa di Santoronzo ha una connotazione chiaramente completamente diversa rispetto agli eventi concettistici perché è una manifestazione che riguarda poi in fondo tutta la città di Lecce. E' stato necessario fare ieri un comitato ordine di sicurezza pubblica nel quale sono state messe a punto le misure organizzative con un apporto sostanzioso di uomini, mezzi che dovrebbero garantire la massima tranquillità dello svolgimento della manifestazione dalla processione agli altri eventi previsti anche musicali in città. Si cercherà di insistere e di essere più forti anche sul fronte dell'antiabusivismo commerciale per consentire a chi vende in maniera regolare di non subire fenomeni di concorrenza sleale.